Questo è il birraio Francesco del birrificio di Buti. Abbiamo studiato un piano di marketing su TikTok che prevede la divulgazione di video informativi sul mondo della birra, insieme a una cura di tutte le altre fasi del progetto. Abbiamo incentrato i primi cinque video sulla produzione artigianale. Scelta la frequenza dei post e trovato l'orario ottimale, il profilo è stato ben indicizzato dall'algoritmo di TikTok, tramite hashtag, descrizioni del video e sottotitoli. In questo modo i video sono stati proposti al pubblico più adatto. I risultati hanno dimostrato come l'argomento genere interesse e curiosità. Abbiamo ottenuto in una settimana più di 32.000 visualizzazioni, 442 visite al profilo e 156 follower. Non male per un profilo aperto dal zero di un'attività locale. Con la strategia e gli obiettivi giusti puoi ottenere risultati inaspettati.